Buonasera, buonanotte, cari amici di Reuno, applausi, teatro e arte. Sergio Assisi, ha sentito le testimonianze del pubblico, i teatri, le città, il teatro accogliente? Assolutamente, è vero. Quanto conta il teatro di una città per una compagnia, per chi propone uno spettacolo teatrale? Previattori ovviamente. Guarda Assisi, abbiamo fatto appena finito il giro per esempio in Puglia. Con il suo spettacolo? Sì. Che qual è? Oggi sto da Dio. Ecco, poi ne parliamo. Con Bianca Guaccio, lo ripeto. Abbiamo trovato un pubblico diverso ogni sera e la cosa strepitosa è vedere, la cosa bella è vedere nei teatri piccoli, diciamo medio-piccoli, insomma da 300-400 posti, vedere le persone fuori che cercano di entrare, nel senso a posti esauriti. Questa è una cosa che per esempio riempie il cuore, ovviamente, oltre al fatto di riempire il teatro. Sergio, parliamo di questo spettacolo? Assolutamente. Con Bianca Guaccio, dicevamo. Con Bianca Guaccio, con Giancarlo Ratti e Fabrizio Sabatucci. In realtà è una storia originale, nata mentre mangiavamo uno spaghetto alle vongole, io e Fabrizio Sabatucci. Praticamente è la storia di tre santi, sono Sant'Ambrogio, San Pietro e San Gennaro, che vengono chiamati da questa segretaria di Dio, interpretata appunto da Bianca Guaccio, perché? Perché pare che Dio si sia scocciato, vuole togliere l'Italia da mezzo e costringe questi tre santi. Quindi siamo di fronte a una commedia divertente, ironica. È una commedia assolutamente ironica, divertente, senza, voglio dire, non vogliamo fare la morale a nessuno, però è uno spettacolo dove si riflette, insomma, te ne vai facendoti due risate, però qualche pensiero lo fai. Non so se è pure nel tuo. Io non ho capito che hai detto perché sto a pensare un'altra cosa mia. Appunto, sto a pensare un spettacolo. Sergio, lei si ritrova questa volta sul falcoscenico con Bianca Guaccio, perché in un certo senso è una sua conoscenza già di qualche tempo fa, o mi sbaglio? Beh, la conosco da più di dieci anni, dai tempi... No, vi dico conoscenza professionale. Assolutamente, la conosco da più di dieci anni, da quando facemmo la famosa fortunata serie Capri. Mi serviva questa attrice, perché poi Bianca è bella, ma è anche brava nella commedia. E canta benissimo. E canta benissimo, quindi voglio dire, non è facile oggi trovare un'attrice bella, ma che fa commedia con disinvoltura. E devo dire che Bianca poi è amata anche molto dal pubblico, quindi l'insieme di queste cose ne ha fatto uno spettacolo, devo dire, che sta riscuotendolo. Lo dico perché è vero, potete controllare. Siete alla Sala Umberto fino al 5 aprile. Assolutamente, abbiamo debuttato il 17, martedì, è stato un grande successo e andremo avanti fino al 5 aprile alla Sala Umberto e poi faremo altre tre settimane al Teatro Diana a Napoli, quindi chiuderò nella mia città. A Napoli? A Napoli, al Teatro Diana. ...mestiere, l'attore si deve divertire quando è in scena, o no? In che senso è inutile? È inutile, altrimenti che comunichi, che fai, nel senso se non ti diverti non faresti quello che facciamo. Poi penso anche che è un lavoro che non si può fare per obbligo, cioè ci deve essere una forma di piacere in qualche modo. Io dico sempre che è un dono e una dannazione il nostro mestiere, è un dono perché hai la possibilità di comunicare, questa capacità che ti nasce dal nulla, è la dannazione che non ne puoi fare a meno. Grazie. Grazie.